A Castelmareccio si è tenuto il congresso di Südtirol e Freiheit, il partito fondato quasi dieci anni fa da EFA Clotz in seguito all'ascissione di Union für Südtirol. Secondo il segretario Stefan Selger è stata superata per la prima volta la soglia dei 4.000 iscritti, oltre il 40% a meno di 30 anni. Il congresso ha ribadito la posizione di Südtirol e Freiheit per il no al referendum sulla riforma costituzionale. Continua inoltre l'impegno del partito per far ottenere ai sudtirolesi la doppia cittadinanza italiana e austriaca.